Assurdo, voglio giocare però con Basta Coco, voglio giocare con Crash Veramente Gli eschi sono molto belli comunque Allora dai, eeeh, sappiamo tutto 3 morti, eeeh Cos'era l'altra? I frutti pompa? O quella nascosta? No Scusa, che gemma ho mancato, perdonatemi What the fuck? Che gemma ho mancato? Forse un segreto, buh Ah no, le casse, le casse, le casse, ho mancato Le casse e la gemma della vita, ok Beh, sì, facciamo subito la perfect Facciamo già subito la perfect Facciamo già subito la perfect Guardate che bella Questa è una meccanica di gioco Con due pesci Questa è una pezzi di merda Perché la prima volta ho aspettato il primo pesce Era la cassa che ho mancato Era la cassa che ho mancato Perché vi ricordo Che ho mancato una cassa Perché io ho questa cosa Di una cassa Stavamo sul murio Ok Perfetto Allora No cazzarola no No cazzarola no come rompi i megafoni rompi i megafoni si possono rompere mi sono dimenticato di quella cassa la prendiamo la reliquia perfect no non la posso prendere la reliquia perfect non la posso prendere devo per forza ricominciare va bene impariamo e smettila di saltare ok morte vacca sono morto dai finiamolo cazzarola dai due morti dai però è sei veramente una merda umana veramente ok dai ma c'era la gemma tanto ho già preso ma dai non è difficile dai intanto ho preso la gemma quella del di meno le tre morti ok devo prendere tutte le casse no ho sbagliato devo fare il replay eeeh ora me l'avevo mancata l'ombra ti sta risultando utile molto ti ripeto l'unica cosa che mi uccide eeeh pepo per il perfect puoi morire tre volte e oramai no 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 che stai dicendo assolutamente no 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 la perfect non devi morire mai non devi morire mai per la perfect non devi morire mai comunque dai il livello lo conosco è abbastanza fattibile eeeh l'unica cosa che mi può mettere ansia ma alla fine ci sono le mele quindi lo fai eeeh cioè non ho avuto problemi come avete visto alla prima le ho fatti sono i cavi cioè noi cavi scusatemi le rotaie la quando quando slitti però lo si fa eeeh io ho rismesso di respirare come notate vi ripeto guardate che figata questo è il cambio di dimensione lo trovo lo trovo ok no 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 spichicco no basta prendere tutte le casse senza mai morire la gemma non serve prendere dai uno e due non interessante come part Wij eh no ok 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 Sì, sì, sì Ok, ora non prego io Qua le mele aiutano tanto, ragazzi Le mele aiutano davvero tanto Madonna che anzi ho detto a Dio ho saltato troppo presto Ok Fatto raghi Era quella la cassa incriminata Piano Piano E smettila di saltare Ok Eh vabbè L'animazione, ragazzi L'animazione L'animazione Però va bene Va bene Lo impara a memoria, raga Che male non mi fa, dai Sinistra Perfetto Ricominciamo il livello Oramai non ha più senso Oramai non è più senso Questo crash è uscito anche su PC No No, è un'esclusiva PlayStation O console Credo per il momento Per il momento Non è detto che non posso uscire Entro il prossimo anno Non ho il prossimo anno Pure su Steam PC Quindi Uscirà? Sì, credo Eh, raghi Praticamente Bisogna avere Sono stronzo Sono stronzo Perché devo fare Perché non mi rendo la vita Volevo prenderla al volo Quando c'è la piattaforma Qua sono un coglione io Posso tranquillamente Usare la piattaforma Dai, cazzo Non è difficile Basta che sto attento Non è difficile Dai, spappero Vuoi il caffè? Madre! Dai, cazzo Dai 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, dai. Uno, due, tre. Sono due salti prima. Uno, due, non si va sotto, non si va su, salto, sotto, sopra, salto, sotto, sopra. Ok, quella cassa è importantissima. Mancare quella cassa è la fine. È la fine mancare quella cassa. No, raga, non mi fate venire l'ansia. Non era una TNT era... Ragazzi, era una nitro. Non mi fate venire l'ansia. Era una nitro quella vicino alla cassa, raghi. No, raga, erano una nitro. Non mi fate venire l'ansia. Non mi fate venire l'ansia. Ho lasciato un attimo. Ti prego, ditemi, dimmi che... Io spero su Dio che tu abbia visto male. Dio che sta a piangere, ragazzi. Vabbè, il bonus, il bonus non conta, raga. Il bonus non conta, non conta come morto il bonus. Non conta come morto il bonus. Dai, il bonus non conta come morto. Raga, siete nelle verde. Raga, non fate le verde. Mi state facendo venire l'ansia. Ho, ciao. Ho, matar. Oh, Ho. Ho. era nitro pepo tranquillo oddio meno male meno male ha rivisto il VOD pepo non finire il livello bonus no di questo ammetto e me ne sarei accorto di questo tranquillo me ne sarei accorto perchè comunque vi ringrazio me ne sarei accorto perchè prima di andare me ne guardo sempre guardo sempre c'è una casa e dov'aprendere dov'aprendere pure a me sembra una cassa dai ragazzi ma ste casse sono illegali andiamo avanti poi torno indietro poi torno indietro se abbiamo culo la piattaforma despauna non la sapevo raga della cassa dentro c'è tutto mi aspetto tranne che le calze siano pure nascoste dentro c'è non me l'aspetto non me l'aspetto raga non lo sapevo bisogna stare attenti la cassa c'è c'è che sembra quello fuori dal livello semplicemente ho avuto la conferma per il fatto che c'è nell'altra parte di tubo quindi ragazzi Ti dico l'ho vista di striscio All'ultimo E io ho visto dopo Dopo il bonus Ti ho letto Si aveva preso tutte le case No Kikko c'era una casa sotto il bonus Cacchio Dunque raga imbarazzante proprio Imbarazzante proprio Ok Ok Perfetto Stavolta guardiamo Uno e due Non rompere il cazzo Uno e due E una nitro E uno nitro Oh Allora questo è una nitro E questo è una nitro Oh raga non credo di aver dimenticato nulla raga Non c'è nulla Allora devo saltare prima due volte Uno E due Poi si va giù Aspetta Vai su Si salta Subito giù Subito su Si salta Vai giù Subito su Si salta Subito giù Subito su Si salta Subito giù Aspetta su Perfetto Fatto Subito Oh Grazie a tutti. 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 Tu puoi fare tranquillamente... Un livello... Ed essere devastato... Ed essere devastato... E dire... Basta. Quanti livelli ho fatto finora? Bravo, bravo... E siamo ai primi livelli... Porca... C'è ragazzi... C'è ragazzi considerate... Ero concentratissimo... Nel fare... Questo è il primo livello... Questo è il secondo livello... Signori... Ero concentratissimo... Nel terzo livello... Nel terzo... Ehm... Immaginatevi il trentasettesimo... Il trentasettesimo sarà il boss...